Eeeh, non smetti mai di ballare tu! Sei bellissima, ti adoro! Stavo, ragazzi. A Thomas per la sua ultima sera nel suo appartamento. E al suo sostituto, grazie al quale la convivenza sarà uno spasso! Ma scherzi! Non viene più. Hai un piano B? Beh, lo spero per la tua incolumità. Jeanne. Antoine. E quindi, sei ancora single? Mamma! Tesori miei! Teo, otto anni. Hai una playstation? Lu, cinque anni. Mamma, dov'è la nostra camera? Ditemi che non è vero. Ciao, Antoine. Questo fine settimana, tu, Mimi e Coco sparite. Ho appena lasciato il mio appartamento, dentro il quale c'è mio marito, che probabilmente è con Sandrine. Quindi noi restiamo, tu fa come vuoi. No, non sono stato io! Ma sei ma? Mollo! Vai! Fermi! Datemi il suo raccomando! Questa è guerra, ragazzini. Nessuno si alza da tavola se non ha mangiato tutto. Tanti pipì! E a letto! Sono le due del mattino. I bambini dormono. Non è possibile! Ehi! 250 euro per schiamazzi notturni. E va bene, poi ti levi dalle scatole. No! Ah, che dolore! E a letto! E a letto! Grazie a tutti.